non è controllabile questa cosa ma ho fatto il bambino che ha fatto la cacchia dove andrà a pulirlo arrivo sta andando regolarmente si sta bene guarda è assolutamente si va in bagno regolarmente fa la cacchia anche due tre volte al giorno mattino sera sta sempre cagando questo bambino bravo contenti sabato festeggiamo se volete venire ok arrivo sono io non mettere i ditti poi non li sto mettendo i ditti cosa stai dicendo mamma mia guarda non dire che ho fatto la cacca